L'inizio del gioco Sorteggiato il mazziere, mescolato il mazzo e sottoposto al taglio del primo giocatore alla destra, viene costituito, prima della distribuzione delle carte, il piatto. Ciascun giocatore pone quindi un certo numero di fish al centro del tavolo da gioco come invito. A questo punto il mazziere distribuisce a ciascun giocatore in senso orario due carte. Esistono tre sistemi per questa prima distribuzione. In base al primo, e più diffuso, il mazziere consegna a ogni giocatore una carta coperta e una scoperta. Il secondo metodo invece prevede che il mazziere dia a ogni giocatore due carte coperte e che sia il giocatore medesimo a decidere quale delle due scoprire. È evidente che in questo caso si lascia a ciascun giocatore una notevole discrezionalità di bluff. Un terzo metodo prevede la consegna di una carta coperta e poi, a scelta del giocatore, la seconda viene data scoperta o coperta. Nel primo caso, il giocatore si limita a chiedere la carta, nel secondo è sufficiente che il giocatore scopra la prima carta per indicare al mazziere la richiesta di una carta coperta. Qualunque sia il metodo adottato, è tuttavia chiaro che deve essere esplicitamente definito prima dell'inizio del gioco. A questo punto ogni giocatore dispone di una carta scoperta davanti a sé e di una carta coperta in mano. Il mazziere dà la parola al giocatore che espone la carta di valore maggiore. Come nel poker tradizionale, la carta di maggior valore è l'asso, seguita nell'ordine da re, donna, fante e via di seguito a scalare. Qualora siano in tavola due o più valori massimi identici, per esempio due assi oppure tre re, si ricorre alla norma classica che vede i cuori precedere i quadri, questi i fiori e questi a propria volta i picche. Un asso di quadri avrà così la prevalenza su un asso di fiori e un re di cuori su un re di quadri. Il giocatore indicato da mazziere come possessore della carta scoperta più alta può a questo punto scegliere se effettuare una scommessa o meno. Se non desidera farla, passa o, come si dice nel gioco della teresina, batte o bussa. Se decide invece di fare una scommessa, pone sul tavolo una quantità di fish a sua scelta. A turno, proseguendo in senso orario, gli altri giocatori possono Finito il primo giro di scommesse e rilanci, se qualche giocatore ha rilanciato, si procede a un nuovo giro per verificare chi aderisce alla cresciuta proposta di scommessa. Chi non accetta si ritira e chi invece ritiene di rilanciare la propria volta rimane in gioco. Si procede così fino a quando tutti i giocatori che non si siano ritrati d'altro accordano su un identico tetto massimo di scommessa pari a quello dell'ultimo rilancio. A questo punto si procede con il gioco.